saluto a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video stavolta sono in compagnia di dite voi io non parlo verde Antonio Giovanni Antonio Giovanni vai già salutate youtube salutiamo vedete la public chat che bello iniziate è difficile con una mano scrivere ciao youtube saludiamo perché cosa stai facendo verde cosa stai facendo con l'altra mano il cellulare youtuber monegramma mi arrivano pure i messaggi privati siamo tutti monegramma all'unico che si fa vedere il gerry ora si è anche inceppato ok questo è il vero duello sasso carta forbici esatto in maniera incredibile subito ma si è vero grande skill nel usare il sasso devo dire la patch io di solito uso sempre spook o la o l'altra c'era posto del sasso che schifo ho sputato sullo schermo c'erano delle macchie di che sono allora quindi sotto abbiamo young e si young parte di sedata young e young parte subito molto forte con un asset nostro è una c'era suo nome si può capire quanto siamo nei grabber almeno non è partito spito di eral di solito partono ci voleva ci voleva no vabbè ragazzi c'è nato che mi scrive ma che partita è la finale non posso vedere i messaggi perché omg che skill questa qui è troppo forte skill che l'angelo io non ho mai capito perché perché si gioca questa carta però si scopre si scopre peschi esatto di angus è fortissimo quindi no è effettivamente devo dire che i cannes mi sa che gli angeli sono ormai ho fatto veramente paura cioè si evi nato si oggettivamente è veramente un buon ragazzo talento si effettivamente si sa che abbia una brutta ma non ti bloccare con tutta connessione non è stato evocato di foolish bulbo io gliel'ho detto fai quello che ti pare gliel'ho detto prima a matte che fai quello che ti pare ma per favore non fare foolish su bulbo e passi perché se no ti taglio la guada fuori su bulbo evoco passo evoco passo questa è la cosa evoco e io ho trovato 3 euro qui e quindi sono monica giusto ma sicuramente la gente pensa che noi guadagniamo i mili io io non guadagno io nell'ultimo mese ho fatto 39 centesimi di dollaro di gg saranno tipo 20 centesimi più soldi proprio veramente dovremmo stare sugli yacht in mezzo alle puttane alla droga tipo siamo talmente power che su twitch quando fanno gli cc la ycs ci contattano esatto ci chiedono di prendere metà del premio solo perché siamo noi no per favore accetta ti prego ma tu sei gerry l'uomo fagiolo ma tu hai cioè riesci a vedermi anche dal dalla telecamerina come la telecamerina cioè tengo la tua faccia ora no c'è qualcuno che sta caricando o è verde cos'è cosa non lo so non ho idea è super brio aia che bei temi non ero una scorreggio nella mia scarpa cioè le scarpe da calcetto anche se non non ho giocato giusto sembra comunque così si fa gg ecco che così si fa così giusto honest no qual honest faceva un male assurdo abbastanza la cosa più random in assoluto dai bene gli facevi fuori un brio così giusto a calco schelangel basta non voglio più giocare agli ubi che poi sinceramente cioè nel nome potremmo anche chiamarlo schelangel che comunque la pronuncia è quella schelangel è proprio brutto in italiano com'è che l'hanno chiamato schelangel sarà schelangelo tipo no mi sarà angelo scheletrico angelo scheletrico sì perché non mangia vabbè senti peggio di satella cavaliere c'è solamente la morte quindi ammazzola no però sarebbe un archetipo morta ma sai che figo un archetipo è morte quando quando peschi quando peschi puntini puntini ti ritrovi morto se peschi se arrivi a pescare e così finirono gli ycs il mazzo morto era tzz ma comunque stavo pensando una cosa ragazzi ascoltate un secondo lo schelangel dovrebbe essere l'angelo scheletrico ma tipo non ha neanche lo scheletro non ha senso dovrebbe essere tipo lo fantasma notare come la sui angus abbia la mano piena non abbia ferrata o non vero non vedo più già aia o doppia aia 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 aio io non vedo gerus ha pure il massimo ma che se c ma che massimo nazi ma però adesso so cazzi perché gli angus c'è in mano il mondo c'è in mano cinque carte brio nack francamente se attiva l'effetto finisce un po a fare in culo ok c'è voluto un po per ingranare però adesso è partito già che c'è la caldo sì ma è assurdo aralto c'è più torni stai più torni stai più ti ritrovi nella merda ma però credere dal mazzo del drago bianco che ci ha tremida data ma è vero che l'ho pitta offro come tributo avevo compito ma io una volta no mi ricordo quando sono andato a lucca comics del 2011 ho incontrato sketch tipo dicevo avevo tipo un aia vls 3000 3000 che buonata capo di capo di capo o butta giù l'araldo come direbbe anzi come dicesse come dicesse capo ragazzo mamma mia almeno con nova ci rievoca qualcuno basta facciamo questa live tutta errante i verbi giusti errante i verbi errante errante i verde mi è piacchiuto mi è piacchiuto ma poteva ancora attaccare è attaccato ho stato io ha stato brio ha stato brio no no io non vedo più jerry in webcam nooo non vuoi mai non vedermi più no che ne so c'è il coso che carica 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 lì no no sono troppo figo anche per skype non mi accetta ho stato un overdose all'interno della non è bella verità che vuoi che ti paghi per far vedere la tua faccia sennò che è morto beh certo c'è il copyright sulla faccia mia qua intanto scusa vorrebbe che venissi voce nell'illegalità secondo me tipo jerry per te si verbi e camace che vai in un manicomio basta non voglio più vivere ho ventuto una carta cost random ma venticinque euro più cinque di spedizio che carta che cos'era chaos neos e vabbè dai il chaos neos tutte le volte anche da piccolo mi ricordo che ci guadagnavi il milione con quella carta si giocava da nessuna parte questa è la cosa però c'è l'arturco che però si vede che può ribaltare tutto dark cool effettivamente sta carta fa veramente paura si minchia playa line burning abyss gg ma stava uno la giocavo in sector io me la sono ritrovata super fra le carte così mi sono trovato tipo avidità alti no spero si avidità alti metti il virus alti mette arnello della distruzione alti metti così no io trovai molto tempo fa l'avarez super quando si giocava ancora eh sì sicuramente l'hanno bandita perché quando io trovo una carta super è così che si fa devono bandire vabbè ci sta ma la cosa spettacolare è quando tipo la bannet list non era ancora non si sapeva ancora in giro molto e tipo solo pochi potevano gestire cose tipo un tizio che conosceva ha venduto scienna tipo a 50 all'uno che ne so 30 vabbè quello quando c'era ancora il medioevo del card game e secondo il quale dad costava ancora 150 e passa anche quello 200 è 10 attenzione 10 ma prima avviene tutto aia 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 non so perché mi sto agitando sulla stanza di questo facendo il giro della stanza questa a proposito di distanza voi non potete nemmeno immaginare in che condizioni pietose sto vivendo attualmente perché non metto in ordine da tre giorni allora stai il letto sfat tutti i vestiti buttati tant'è che la webcam è messa in modo molto molto tattico per non far vedere sto schifo che sta qua cotto gerry prova a chiudere la webcam e riattivarla su la webcam non la chiamata la webcam che non sono che non sono scemo ora lo faccio come non sei non hai scemo come non hai scemo non ho scemo non ho scemo scemo con la i scemo maestri e se i samurai sufficiente che cosa dici ma questa è incorporata come faccio a toglierla no no nel senso mi si vede mi si vede disattiva l'attiva la chiamata perchè io non riesco a vedere ok prova ora dai dai vogliamo vedere già adesso mi vedi sta caricando fottuta connessione basta basta sparerò quelli della connessione vabbè che non pago quasi un cazzo tipo pago 72 o 48 euro l'anno oh l'uccello eh l'uccello evviva 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 gli uccelli anche i sonici guarda verde stai eiaculando bello l'uccello sonico eh perchè con l'altra mano stava facendo qualcosa eh ma non lo aveva ancora evvocato è un'arte avanzata vedi fate la carta di verde advanced verde art ovvio obv eh vedete vedete così si fa più ma chissà perchè questa advanced ritual art la tengono ancora due ma quale mazzo ci gira nessuno giusto l'herald gg per l'herald mamma mia è una cosa che mi da un nervoso perchè a me herald piace tantissimo adesso già hanno messo la preparazione a uno che vabbè sta necroz giusto però dai mettete a tre questa questa cartina qui attenzione no era un bluff ok adesso ma te cazzo ma te cazzo ma te cazzo ma che cazzo youtube tanto per fare il money grab tanto per far vedere che lui money grab intorno a giro esatto come dire nazogu di log horizon esistono al mondo due tipi di uomini quelli che sono pervertiti e li ammettono e quelli che non nascondono uno di questi è matek ovvio che dice che è schifo che volete fare le orge in realtà lui in realtà lui dormi lui fa qualcos'altro nel bagno pensando a queste cose sai con il drago bianco esatto esatto vuole tutti e cinque pezzi di exodia tutti insieme ahia trassa l'ha messo pubblicamente buona ecco gg gg che è sta carta fa gainare ah si ho capito la sfera la faccio vedere pure lì la basta cosa ce l'ho sta carta vabbè a sto punto dato che non si vede la scannata la sfera e l'asport dalle gambe del mondo da quando ho attivato il registratore e quindi tanti ah eccolo a vedere eh sceglie oddio ma insomma mi vuole si fosse bloccato tutto poi ho letto quel penso insomma quanto dovrebbe gainare mille e otto si quindi diventa un 2.8 che mi no ma si distruggono mmm mmm oddio ah no qui non ho ben capito perché magari ha qualcosa in mano forse è un dark hole per levarsi dalle palle del tizio tu boom no no sinceramente non mi sembrava molto sensato come cosa ecco magari si è sbagliato adesso matek ti spustarerà in tutti i suoi video per averlo criticato basta no non è che lo critico scherzo no no non è che lo critico anche perché è più scarso qui sono io quindi oh no derrus ha chiuso la chiamata si è distaccato no sta sperando no no come lo so jerry jerry scuri scomparso dalla chiamata no jerry stoveri dove eri no no dover us tour guide la tour la mia ragazza odia la tour io odio pendolo beh i mostri pendola mi piace pendolo a me piacciono i tre si mi piacciono i trattori di maurizio a me mi piacciono i trattori anche a jesus c'è uno tipo al paese vicino al mio che fa io tengo l'andino 8860 che mezzo sarebbe un tipo di trattore ah ok che cazzo è l'andini ma come non vedi la pubblicità dei trattori nonno scuso ho dato una botta al chiamato non vedi la pubblicità del l'andini 8860 che mezzo che mezzo sinceramente non sono un appassionato di trattori come no tu quando compri una rivista di automobili tu devi andare subito a vedere gli attratori cioè tu hai ragione tipo c'era la macchina che non consuma benzina no io l'ho preso per i trattori giusto levati dai coglioni stupida Lamborghini attenzione upstart più 1000 attenzione perché ma che caosità questa cosa era tipo impensabile ai primi tempi di Yugi 4000 life points si trovi uno 10.000 che cazzo figa da bo ma tipo prima avere il blue eyes in tre pere era come dire GG o bevi la mirror addio oppure la carta più power era il cilindro magico figa sarà forte anche la matura a sicurezza la fa ti metti 3 ampura della vigità 3 cilindri 3 mirror 3 blue eyes poi 3 mago nero giusto perché è figo poi ti inventi le fusioni al momento esatto tipo la konami ancora non ha inventato una fottuta carta drago nero occhi blu sarebbe qualcosa di extreme sarebbe figo ma basta basta poi mi sa no dov'è la foolish subburbo non mi è piaciuta sta mossa sta mossa senza senso proprio ha sbagliato ha sbagliato adesso gli costerà la partita secco basta basta eh il maxi eh ma yangus è scurato che schifo mo tipo perde due in zero ma no ma genus è scomparso no 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 non lo vale io non lo sento avrà tipo scritto su whatsapp no no basta è voluto scomparire no ha scritto oi le puglie cos'è successo le puglie le puglie la lucania foggia foggia best city best city ever basso non voglio più andare a scuro due giorni dopo due settimane di assenza basta Con tutti gli esami Dai quante assenze hai tu Mi sfido Tipo un macello Dai vai ti sfido Ma non so tipo una ventina Nob Nob Sfida le mie 39 Sfida C'è un mio amico che ha tipo Più assente che presente Ogni volta che c'è una verifica Sto a casa Anche il mio compagno di banco Ma perché non sei venuto Avevo sonno Ce ne ha tipo 45 I motivi Basta che non arriva a 50 Ah esatto GG Basta ora scriverò un GG GG si dai Questo GG sarà Rando GG GG parte 4 GG supremo GG proprio gran Giusto giusto Gigerus Giusto Wait a moment GG Sono handicappato a scrivere Che non ha mano Eh 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 Ancora Dai Poi scrive nel gruppo Citro Ma io non voglio la live fra i yubi tubers No Infatti c'è Giagos mi ha scritto Minia ma pesca sempre la foto Giagos ha detto che sta andando a puttane tutto Perfetto Così si fa Giusto Così Che si fa Mi scrive un mio compagno di classe Per playare a Neverwinter Cos'è? Neverwinter Un MMO RPG Però a me laggo Come le bestie Quindi non posso playare Peccato Noi stesso Cioè posso giocare Ma mi sclera Tipo vedi il tizio che a 3 metri di distanza Poi a 30 km Poi te lo ritrovi a 3 mm Eh ma anche così funzionano tutti i miei giochi Pure Call of Duty Tipo Spari nel vuoto lo acchiappi Call of Duty mi sta proprio sul cazzo Sì Bello Spari nel vuoto e li uccidi Perché già sono scarso di mio Poi tipo perdo sempre Io ho degli amici Oh quindi è bruttissima come cosa Frutta cosa No invece a COD Non giocavo quasi mai Perché preferivo Battlefield Che è più figo Giusto Eh Battlefield è assurdo Poi coi mezzi Ehi visto me Ma che nab Doveva far typhoon E' rapida Adesso Negoglio Eh Typhoon Typhoon Day Gigi Per matte GG Questa è una perla Da incognizionare GG Per matte Proprio scritto in maiusco Ma tipo sbucca un BLS dal mazzo di Bianco E Araldo A caso Araldo of Cacchio Come si chiama il BLS Come si chiama il BLS? Come la cluster soldi In boy In boy Of Begining Begining Non so come si pronuncia Begining Tipo Quando gioca ai video giochi in inglesi Begining Banana Araldo of banana As nice Cash Mod Esatto Eh doppio araldo C'è doppio araldo Oddio È un angelo È un angelo È un angelo È un angelo Home for Jack Ah censurate la scritta Che i bambini Vedono queste cose No veramente C'era un tizio Mi hanno detto Sempre nel paese Vicino al mio Che quando era Tipo bambino Andava in giro A chiedere Alla gente Ma tu zoki Con le carte Di Yu-Gi-Oh No Io tu zoki Con le carte Di Yu-Gi-Oh Eh Ahia Eh sì C'è pure la ral È una trappola È una trappola Tu non l'hai visto Io a Bridget Sarebbe tipo la parodia È stupendo C'è Seto Kaiba Che imbrogio Guarda Me ne hanno parlato Devo ancora vedere È stupendo Prima c'era doppiata In italiano Poi l'hanno tolto Ah sì Tipo Aspetta C'era una scena Come faceva Hai visto che Quando giocavo Una carte là Si facevano male Non si sa perché Eh Typhoon Bello questo Tipo faceva Per qualche motivo Un gioco di carte Mi ha ferito gravemente Così si fa Onest del Tengu Uno a uno Attenzione Inzaghi Inzaghi Sempre lui Attenzione Attenzione Come fanno i maiali BLEEEE 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 Le facca Il domatore di porci Di clash Che poi è uno Delle A-Team Spera Moteloli Interference Interference forse è il mio tele No che ti devo mandare Nella Delle A-Team Ok Diamo Stiamo Abbandonati No Definitivamente Povero Geroe Stava giocando Il mazzo Morte Cosa? Stava giocando Il mazzo Morte Ovvio Stardosto Stardosto Scusa No un attimo Dicami Il torneo In realtà Voi io che ho giocato Cloudian GG Così si fa Tutti con plant Ho vinto il premio Ignoranza del mese Esatto Nel prossimo torneo Ci saranno sti credi Giusto Ora ti mostrerò Il domatore di porci Nella vita reale Su WhatsApp Ok Lo metterò anche nel gruppo Vabbè è quello delle A-Team Sì È lui Oddio ma è lui È lui Ma è tutto La prima volta che l'ho visto Ci è rimasto male Cioè Proprio quando ho scoperto Il domatore di porci Ma questo è quello Delle A-Team Clash of Clans In real life Esatto Di vacca Non lo metto pure nel gruppo GG Azzo Un po' trova di primo Mamma quanto faceva male Quella carta Abbastanza E ce l'ho ancora Per sicurezza Io ce l'ho ma tipo Tarocca GG Con le loro Fogliature Che vacca Mio mi sono spettacola Le fogliature Di mano Blade 409 HD Perché se vuoi vederlo male Poi Yangus parte Aspetta Yangus parte Senza carta in mano GG Ha visto un altro Cioè mai visto Che rob Bello Doppia mindcrash Ha fatto Perché mi sto muovendo Distratto Sì Gli ha fatto Dopo trap Dopo la cosa Bucotrappola Gli ha fatto Doppio mindcrash E uno gli ha fatto Scartare due Schnellangel E l'altro E visto Antimetal Ancora La tour Purissima La tour La tour No Come ci rimane Di male Quando stava A tre vaniti E bocca Di la tour Tutti vaniti No Sì Beh è bruttissima Dea Ma secondo me A due ci poteva stare Ora è una tour Gialla È vero È c'è un per caso Tipo I miei due Compagni di team Hanno sbustato Tipo 5 astral pack Ne hanno trovate Due ultimate In 5 astral pack Io Io ho sbustato 0 astral pack Anche me Anche me Anche io Non li sbusto Fa anche gara Bello Non trovo niente Special tour Così Io faccio schifo Nelle unboxing Manchi un sacco Almeno Un tempo Non ero malissimo Però No Finchè sei nabbo Non capisci un cazzo Delle carte che valgono Trovi tu Tutto Giù è vero È vero Io tipo Quando non capivo bene il gioco Ho trovato Brionac Secret Di primo Black rose ultimate Black rose ultimate Che ancora ce l'ho Poi Che avevo trovato Non mi ricordo Ah Tipo mezzo karakuri Sbustato Che all'epoca Avevano Tipo 20 euro Anche vuote Anche vuote Attenzione Merda Pure vuote Eh miglia T'ha settato tutto Fatto Ah infatti Quattro carte in mano Azzo Qui Che pesa Che pesa Devo scorreggiare No Non in live Non in live Io sono carfaccio Cioè immagina che lo faccio Con la mia ragazza Qui Ah perfetto Tipo le scorreggi in faccia Tipo lei fa Ciao ciao Io mi avvicino piano piano Che all'improvviso Mi giro di culo Eh no Che schifo Un che matti Che sta ignorando In maniera incredibile Cioè Con Max G E' andata a taccare GG Max G Monometra Max G Monometra Io sono curioso Di vedere come va a finire Perché tipo Boh Magari Angus Tira fuori Diciamo Nat Vieni in chiamata Sì dai Fai che mi ha andato in chiamata Ma ormai è finita Secondo me Più o meno Non scherzo Tan 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 Vabbè se c'è un'altra warning sotto GG Ma davvero Che scurato Ora ti fa Un honest Cioè ha pescato tutto Ma ora prende honest Ora 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 fa honest Mi Forse viene veramente sky Viene nato su skype forse Dai dai Io però non posso togliere la schermata di dueling net Mannaccio Addalo ai friends Addalo alla chiamata Non so se Sì che si spacca Si dovrebbe Perché è sempre mandato al cimiter Però dal terreno Eh Boh Secondo me non si spacca Eh no Perché non raggiunge Porca Ah infatti Top deck Money card Più No Ti fa anche skype Sentiamo la registrazione di nato Un quarto tono 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 Che bella Essere di nato Ma Che è stupenda Vabbè tipica Pure un po' Noi facciamo così Perché abbiamo il dialetto Molto simile a Napolita Ah sì Sì Noi sì Vabbè che stiamo A due tre ore di distanza Io not Vedi dov'è che sai Hai detto Di bella Il paese Che non coincide Proprio col suo nome Bella Ma fa schifo Nat vogliamo Nat Nat Vogliamo la parlantina napoletana Poi per fare il napoletano Devi tipo Parla nasale Che voglio Ma io Una pizza Una puletana Sai come sta Bobbona Io non te la faccio mica A volte Perché sto cliccando lì Suicide Speed No Disonesto Ma perché non creano Il disonesto Anche se l'onesto È la carta più disonesta Del gioco Creano il disonesto Per far target ai dark Sarebbe lo spettacolo Uuuuuh Uuuuh Dolori E mo dark Dark hole Tengu C'è sta Ci sarà sta cosa Dark hole Tengu Ovvio Sempre e comunque Dark hole Tengu Sono curioso di vedere Come è la finita Andiamo lì Qui Puttanelle Mmm Puttanelle Mmm Puttanelle Ma tecchio No anche veile Tantantant Dark hole Dark hole Tengu Vediamo Dark hole Tengu Dark hole Dark hole Tengu Dark hole Termora i gag Tantantantant Quando si Quando Quando vedi che il player Sposto in divesa Pensi È fottuto Invece tipo Se c'è tipo Settato mirror Priso Lasci tutto in attacco Tranquillo Esatto Esatto Quindi l'altro dice Boh Questo qui C'è un brutto vizio Quando gioco Lascio sempre le carte in attacco Cioè O meglio Non lo spirit ripper Però Ultimo C'è il vizio Pure che c'è un mille off Deve sta in attacco Ma come succede Vero Magari Mi becco i cosi Il flow Tipo il 101 Perché lo lascia in attacco Anziché metto Sì sì Infatti Ma sono visto brutto parecchie volte Ho perso pure qualche volta Perché li lasciavo in attacco Non puoi perché Cristian non puoi evocar specialmente Ma io ho fatto sincro su Non è special su Ma tipo sta partita finirà No non credo Mai più Per riperdo una parte e Cristian all'altra non finisce Vedi quanto sta durando la chiamata Sono 43 minuti E io ho avuto carica miz'ora di video Poi senza tagli Che poi mi avevano chiesto Dai commenta la partita che sei bravo Si sto cazzo BLS in arrivo BLS in arrivo Non può farlo Scambio Enemy controller Onest Enemy controller Enemy controller Enemy controller Honest design Honest design Guarda l'enemy controller Guarda l'enemy controller Cilindro magico Fai gli cilindro magico Vecchie zero Non meno zero Eh beh era abbastanza ovvio Enemy Enemy 6 GG Nooo Aspetta bisogna vedere l'asset Oh Oh Ma Eh GG Che cazzo Che cazzo Scusa Scusa Manco è entrato Scusa La partita Scusa La partita GG E' il primo torneo Tra gli youtuber A caso Esatto Niko champions Niko Mi è piaciuta Mi è piaciuta Sè Che duello epico Epico con l'H Epico Sennò Non E' così Sì Ti facciamo Sì Yangost adesso dice le cose giuste Matek Ammette che è verissimo Sì Veramente è una bella parte È una bella prestazione Da entrambe le parti Sicuramente si potrà far di più Sotto il piano di vista Psicologico Ok Ok basta Dai Perché Nat non è entrato Perché Nat è stupido Sono nero tipo Gesù Sì Gesù ti gioca il mazzo Era partita Gesù ti Adesso Ti puo E' andata Aveva scritto Devi andare a studiare Bene Sì Regniti conto Brutta cosa E oggi mi scontro Vabbè ragazzi Allora facciamo Facciamo l'ending Quindi Ringhazzo verde Saluta Vabbè Per avermi ospitato Nel tuo canale Dobbiamo fare le condoglianze A Gerus Perché ha giocato il mazzo è la famiglia di Gerus è il nuovo archetipo del meta praticamente se peschi la carta ogni effetto dice se peschi puntini puntini illuminati confinus muori vabbè partisco ringrazio per aver partecipato Gerus prossimo torneo vediamo quando organizzarlo forse vediamo, vorremmo che finisce la scuola giusto per fare con più calma dato che è l'ultimo periodo ho pure gli esami quindi il premio a Mattec dovrebbe essere scegliere il formato del meta e questo ha chiuso pure Mattec quindi lasciatevi un commento iscrivetevi al canale sia mio che di verde degli altri due tizi qui che stavano giocando metto tutto in descrizione e la R di verde fa venire duro a tutti ovvio ovvio quindi perché sto prolungando l'ending così vai verde chiudi tu basta perché tanto oramai sono già 47 minuti di chiamata facciamo 5 vabbè ragazzi allora invitiamo a lasciare un bel like commentare nei commenti per dirci cosa ne pensate se Mattec è money grabber o meno lo scopriremo nel prossimo torneo Yangus è money grabber si sa dato il nome di QN iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente possibilmente magari con un altro torneo esatto giusto? quindi ora si dice addio quindi addio a tutti di QN Grazie.